Silenziosamente, troppo, Cagliari e Verona sono salve. Raggiunta la salvezza con una giornata d'anticipo e bisogna parlare di Claudio Ranieri e Marco Baroni. La salvezza con una giornata d'anticipo e bisogna parlare di Claudio Ranieri. Avevano capito che la defaianza di quel momento, che le difficoltà di quel momento, che i punti persi dipendevano anche da loro. E quindi invece di lasciare andare un allenatore che li aveva portati in Serie A, perché ricordiamo che Ranieri subentra a gennaio 2023 e porta il Cagliari tramite il quinto posto ai play-off in Serie A, c'era bisogno di unirsi, compattarsi e dare il meglio. Così è stato, la scossa mentale c'è stata e il Cagliari, battendo il Sassuolo, si è salvato. Commozione per Ranieri, ovviamente acclamato dalla tifoseria del Cagliari, anche in trasferta, sempre in trasferta, dappertutto a sostenere la squadra. E bisogna anche dire che il Cagliari, pur con i valori che ha offerto calcio in questa stagione, ha giocato anche bene a calcio, con tanti punti conquistati nei minuti finali e quindi di nervi e quindi di reazione e quindi di orgoglio, però ha saputo anche provare a giocare, ha saputo anche mettere in campo qualcosa di qualitativo invece di vivacchiare, invece di speculare sull'avversario, invece di rintanarsi dietro. Non un bellissimo Cagliari ma neanche bruttissimo e quindi bisogna dare onore a Ranieri per quello che ha saputo fare alla sua veneranda età, ancora incidendo emotivamente e tecnicamente su calciatori alcuni giovani, alcuni già affermati, ma che avevano bisogno di lui per compiere questa impresa, per essere squadra e per raggiungere questo obiettivo che vale tantissimo. Dall'altra parte un Verona decimato dalle cessioni, circa 100 milioni di incassi del Verona tra le due campagne acquisti, tra le due campagne calciomercato, tra quella estiva 2023 e soprattutto quella invernale 2024, ma il 27 gennaio a mercato praticamente chiuso con tutti quanti andati via, tanti titolari, tra cui Chien e Diuric soprattutto, Marco Baroni non parlava di mercato e non si lamentava neanche per un secondo, anzi diceva, ci sono delle vicende societarie e c'è anche la volontà dei calciatori di andare via, quindi invece di parlare di chi è andato via, parliamo di chi è rimasto. Ngonge, Hie, Doig, Terracciano e soprattutto Diuric, tutti andati via a gennaio impoverendo il tasso tecnico della squadra e sostanzialmente lasciando Baroni con numericamente anche meno giocatori, considerando che gli acquisti, certo ci sono pure stati a gennaio per esempio Noslin ed altri, ma meno significativi e comunque una rivoluzione, un cambiamento numericamente eccessivo che richiedeva tempo per integrare la squadra, ma tempo non ce n'è stato e non ce n'è neanche stato bisogno. Perché il Verona pure è stata una squadra che ha offerto calcio in questo campionato, che ha saputo anche giocare bene, metterci dentro tanto, provare a giocarsi le partite, dare tutto senza speculare, con un'identità di gioco garantita dalla continuità di progetto tecnico di un allenatore che è arrivato a inizio stagione. Il Verona veniva da una salvezza insperata con lo spareggio con lo Spezia, 18esima posizione l'anno scorso, e adesso il Verona è salvo con una giornata di anticipo avendo battuto la salerditana e Baroni senza mai lamentarsi e puntando sul campo ha compiuto anche lui una grande impresa. Non era assolutamente scontato, viste le vicissitudini della proprietà, vista la condizione finanziaria e anche le operazioni di mercato in uscita. Eppure anche il Verona, con il gioco, ha onorato il campionato, ha onorato la storia del Verona, ha rispettato i tifosi, ha offerto anche un po' di bellezza e tante emozioni e resterà meritatamente in Serie A anche la prossima stagione. E va sottolineato che Marco Baroni è veramente un bravo allenatore. Basti vedere la sua media punti in varie squadre, tra giovanili, tra cui anche la Juventus, e squadre di diverso livello, anche non in Serie A, anche in Serie B, e ha sempre fatto fare diversi punti, parecchi punti a partita. Ranieri, d'altra parte, parliamo di un allenatore che ha fatto la storia del calcio degli italiani e quindi come allenatore italiano con il record personale di panchine, quasi 200 al Chelsea, è stata l'esperienza più lunga, quattro stagioni. E poi dove aveva cominciato proprio con il Cagliari, altra salvezza tanti anni fa, la Fiorentina, la Juventus, la Roma due volte, e altre squadre all'estero come il Leicester, la Premier League, e poi soprattutto sempre la voglia di mettersi in gioco senza puntare per forza al massimo, anzi, dando il massimo lì dove si mette in gioco, accettando di buon grado squadre che devono salvarsi, squadre che devono raggiungere la promozione, squadre con obiettivi che non sono di massimo livello, che non sono di eccellenza. Ma cosa cambia? Sono comunque obiettivi. E conta come li raggiungi, l'impegno, la professionalità, la serietà e i valori che ci metti. E Ranieri è veramente un signore. Si fa fatica a trovare una persona, una, a cui Claudio Ranieri stia antipatico o che possa dire male di lui. E lo stesso vale per Baroni. Baroni, anche lui, allenatore sempre al suo posto, serio, rispettoso, mai sopra le righe, e che pensa a lavorare, pensa al campo. Infatti, di Baroni non si parla mai. E bisognerebbe parlarne molto di più. In attesa dell'ultimo verdetto retrocessione tra Frosinone, Udinese e Empoli, ci sono due squadre che con merito resteranno in Serie A, con la salvezza conquistata, con una giornata d'anticipo. Due squadre che hanno anche offerto calcio e ci auguriamo possano continuare a farlo, con Ranieri e con Baroni o con altri. Ranieri è stato già ampiamente confermato, a meno che non sia lui a decidere di andarsene, ma è difficile pensarlo per anche il legame di emozioni che c'è con la piazza. Tutto a vantaggio del calcio e dell'innalzamento della competitività in Serie A. Parliamo di calcio, parliamo di calcio giocato, parliamo di belle storie, belle vicende, e parliamo di allenatori bravi. Grazie. 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 Grazie.